Hanno toccato anche la provincia di Arezzo i controlli dei NAS in palestre e centri sportivi. Due, le strutture aretine nelle quali sono state riscontrate irregolarità. Un servizio straordinario dei 12 NAS dell'Italia centrale, controlli finalizzati ad accertare il rispetto della norma sul rilascio dei certificati medici per lo svolgimento dell'attività sportiva. Sono stati così passati al setaccio 413 centri sportivi e rilevate violazioni in 118 di questi. A7 è stata sospesa con effetti immediati l'attività per gravi irregolarità riscontrate, per altrettanti invece i carabinieri hanno avanzato la medesima richiesta. Complessivamente 81 le persone che sono state segnalate alle autorità amministrative, 9 quelle denunciate. Le violazioni contestate tra penali e amministrative in totale sono state pari a 176 mila euro. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo sono state accertate due situazioni di irregolarità segnalate all'autorità amministrativa. In un caso per aver accertato certificati medici per l'attività non agonistica rilasciati senza l'indicazione degli accertamenti diagnostici eseguiti o da specialisti diversi da quelli autorizzati dalla specifica normativa. In un'altra palestra invece per aver ammesso alla pratica sportiva non agonistica persone sprovviste della relativa certificazione medica. in un'altra palestra è spazzita. ino